Astronave madre ospedaliera Eccomi qui a descrivere il mio 37esimo viaggio in astronave, un viaggio interessantissimo alla scoperta della tecnologia medico-scientifica extraterrestre. 37esimo viaggio in astronave La visita all'astronave madre ospedaliera Siamo giunti al mio 37esimo viaggio in astronave ed inizio solo ora a prendere la piena consapevolezza di tutto ciò che abbiamo realizzato con il loro aiuto e sostegno per questo piano divino per la Terra così grande e così importante, che vivo attraverso questo mio corpo in contatto con le civiltà extraterrestri delle Pleiadi di Maya, di Alpha Centauri, di Orione, della Lira e di Sirio. Davide Amrir Ancora una volta mi ritrovo a salire a bordo dell'astronave del Pleiadiano Nordico Sono Aaron Sumas e mio tuttore in astronave madre, sono circa le 3 del mattino del 18 febbraio 2011 e mi sto preparando a raggiungere nuovamente il Monte Musine. Questo sacro monte dove ogni mese, per ora, sto affrontando degli incontri periodici con esseri venuti dalle Pleiadi ed amasare un pianeta esploso in seguito ad una guerra stellare. Ad aspettarmi fuori dal disco volante questa volta è il Pleiadiano Nordico della Federazione Galattica di supporto ai walking Aaron Sumase Aaron Sumase e delle Pleiadi del Nord. È alto circa 2 metri e 35 centimetri e dai capelli biondi quasi bianchi, i suoi occhi sembrano gli occhi di Unaschi, uno di quei cani, che vivono ai poli, e che non patiscono il freddo. Il suo aspetto è angelico e il suo viso dolcemente pacato nella felicità assoluta del pieno suo equilibrio, dimostra tutto l'affetto per il mio lavoro qui sulla Terra. Tralascio i particolari del tragitto, che mi ha portato fino al disco, che devo dire stavolta mi ha un po' innervosito in quanto molta erba era cresciuta dopo le ultime piogge e quasi perdevo il sentiero se come non avessi avuto il mio palmare GPS. Arrivato al disco di diversa forma quelli Pleiadiani sono molto più dettagliati ed articolati nelle loro forme, incontro Aaron che mi attendeva in posizione energetica di attesa e riposo. Sono molto ansioso di sapere che cosa mi attende in questo viaggio e nel vedere da lontano le guglie del disco Pleiadiano riconosco subito la forma e, già penso dentro di me, che questa volta mi attende qualcosa di molto importante, perché se è giunto fin qui il disco di Aaron sicuramente si viaggerà lontani. Non mi sbagliavo affatto. Arrivato al disco Aaron mi attende e toccandosi la fronte con le due dita della mano destra mi offre il saluto della Federazione e del Concilio di Alcione, supremo concilio di tutta la costellazione Pleiadiana. Inizia subito tra noi un discorso telepatico di grande importanza. Aaron Sumasi Ramon Davide, figlio delle Pleiadi, oramai sei divenuto un nostro caro figlio adottivo ed il tuo DNA mutato per la tasmutazione cellulare e divenuto nel suo contenuto molto simile al nostro, intendiamo dire nella frequenza di supporto al walking che, è per noi fondamentale per contattare il tuo corpo e permettere che Amrir di Maya possa compiere la sua missione con ed attraverso di te. Tutto il concilio supremo di Alcione ti offre il suo saluto e presto sarai nuovamente con noi sulle Pleiadi di Maya per un nuovo viaggio. Ben arrivato possano le tue cellule muscolari riposarsi ora dopo il difficile percorso che ti ha portato fin qua. Davide Amrir A Ramon fratello mio delle stelle, che emozione, che ho di rivederti dopo molto tempo, sono molto felice ed ho il cuore in gola sia per il tragitto percorso che per l'emozione, che non riesco a contenere nel vederti fratello delle stelle. Mi posso accomodare nel disco? Immagino che se la tua presenza è qui è perché ci sono informazioni importanti da donar. Mi dico giusto Aaron? Itaccare con noi nel disco è anche attaccar? Aaron Sumase Caro figlio della luce, non nascondi di certo ancora la tua natura umana, gli umani fanno sempre tante domande, già sai che la domanda crea una causa non molta positiva e genera quasi sempre un disordine cosmico in noi, calma la tua sete di sapere ed entra all'interno della mia nave stellare vedrai con i tuoi occhi, itaccare da taccare, che sempre ti accompagnano e ti guidano nei tuoi passi quotidiani. Davide Amrir Grazie Aaron, grazie, la questione, e che sono così nuovamente felice di rivedervi, ogni volta passa per me troppo tempo e dimentico facilmente i vostri visi, che rimangono solo nella mia memoria umana, quanto desidererei potervi fotografare anche solo per tenere una foto con me per ricordarvi meglio, Aaron Sumase Dolce anima e caro walking, comprendo ciò che mi chiedi ma come tu sai, qui, vicino a me sei già in altra dimensione e tutto ciò che è vostra tecnologia viene fermata dal magnetismo di questa dimensione, che avvolge me nella sicurezza di presentarmi a te sotto un corpo simile al tuo, quando, in realtà sai bene che abbiamo altri corpi su alcione e prenderesti con te una immagine, che comunque non corrisponderà al mio vero volto. Noi siamo esseri multidimensionali possiamo vivere in diversi corpi e diverse forme solo per il nostro piacere e divertimento o studio, quando anche voi avrete completato il vostro cambiamento molecolare del nuovo DNA forse, potrai comprendere ciò che ti dico figlio caro della madre Terra. Purtroppo non era semplice continuare questa conversazione vedendo Aaron mostrarmi la strada verso il portellone della nave stellare comprendo che è ora di partire per il nuovo viaggio. Nuovamente mi accingo ad accedere all'interno dei loro dischi dove la tecnologia si riduce a cerchi e forme circolari a luce e a cristalli posti in assimetria geometrica per poter creare un circuito di luce e di amore, che fa decollare i loro dischi. All'interno del disco volante Itaccar mi viene incontro ed Ataccar come sempre è indaffarato ai controlli da effettuare per il viaggio mentre vedo un suo cenno di risposta al mio saluto. Itaccar di Masar è contento di vedermi ed è molto premurroso di pulirmi. Itaccar da Masar. Caro amore del cielo, che ti ha scelto per questo duro compito sento in te memorie di lotta e di arroganza e rabbia, questo qui non puoi portarlo e tu avresti dovuto già imparare a pulirti da solo prima di giungere a noi. È importante la ripulitura causale delle parole e delle azioni, che su Sara spesso divengono come lacci e nodi, che non vi lasciano salire nella coscienza più pura. Davide Amrir comprendo cosa tu possa leggere dentro di me Itaccar, lo comprendo molto bene e ti chiedo scusa di questa mia incuranza. Essere walkie non è proprio facile, siamo sempre attaccati e quasi sempre siamo attaccati anche da quelle persone, che ci stanno vicine, che un giorno ti sono amiche ed un altro nemiche. Itaccar da Masar. Alla luce di tutto questo, alla luce più alta devi offrire la tua sofferenza e da volte se ti capita di perdere il tuo equilibrio nella pace, prova a comprendere che anche altri prima di te hanno ben notato e sacrificato il proprio essere e la propria libertà per compiere la grande opera. Siete walkie e dovete essere sempre l'esempio, che noi desideriamo, coraggio fratello della terra. Ora non pensare più a queste persone, ci abbiamo già pensato noi e ti offro nuovamente il mio pensiero postivio e di amore. Coloro che vanno contro di te sono contro la grande opera e il Dio Altissimo conosce quale causa ha generato in loro questa sofferenza, non preoccuparte né affatto, siete sei puro, tutto è puro dentro e fuori di te e se fuori di te non vedi questa purezza non prendertela con te stesso e neanche con costoro che ti lottano contro, questo è il peso, che tutti hanno dovuto portare prima di te, altri contattisti hanno portato questo peso. Ma questo peso diverrà non solo per te ma per tutti coloro ai quali offri il tuo operato, un grande masso dove potersi appoggiare per salire sulle nostre ali di liberta e nuova coscienza. Ora lascia che il mio amore per te ti ripulisca la tua sofferta e patita anima. In quel momento mi sono sentito leggero come una piuma ed ho potuto vedere negli occhi di Itakkar un amore incredibilmente grande ed armonioso uscire dal suo sguardo ed osservarmi qui, al centro del mio petto dove vivono le nostre emozioni. In un attimo mi sono sentito come accarezzato da una musica arpeggiante circolare dentro di di me come un mulinello di acqua, che trova un foro e inizia a caderci dentro arrotolandosi su se stessa creando un vortice ed un mulinello. In pochi istanti la mia anima era ripulita da tutte le memorie delle diverse discussioni avute in quei giorni. Attaccarci offre un meraviglioso viaggio in astronave fino all'astronave madre ospedaliera dopo esserci tutti accomodati attaccar inizia ad accendere le sfere magnetiche motori del disco volante che iniziano a ruotare vorticosamente creando l'assenza di tempo e di spazio. Iniziamo a viaggiare all'interno dei fiumi magnetici della non creazione per apparire in un baleno di luce di fronte ad una immensa astronave madre tutta bianca e grigia. Fuori dalla finestra del disco posso vedere lo spazio immenso delle stelle e il nero del vuoto del cosmo. Le uniche luci le vedo provenire da questa immensa nave e piccole lucine riesco a scorgere intorno ad essa uscire ed entrare da un discreto portellone situato alla base di questa piattaforma galattica. Estasiato da questo vedere chiedo ad Aaron se l'astronave madre del comando o di cosa si tratta ed Aaron mi risponde. Aaron sumase. Il tempo su Saras si accorcia figlio mio, ogni vostro giorno di più, ed è bene che noi ti mostriamo ciò che donerà sollievo a tutti coloro che saranno ospitati presso le nostre astronavi madri ospedalieri adibite al ripristino della vostra salute psichica e fisica. Questa è una nave ospedaliera e come lei ve ne sono molte altre caro figlio di Saras. Sono le astronavi madri del comando, che ospitano all'interno il vostro completo supporto all'evacuazione. Tutti i terrestri, che si saranno affidati a noi ed avranno accolto il messaggio telepatico degli ultimi giorni, verranno prelevati dalle loro case e dai loro siti di lavoro o dalle strutture di cura per essere trasferiti su queste astronavi madri siriane del concilio siriano per ricevere le cure adatte al ripristino psichico e fisico dei vostri corpi. È molto interessante che tu la possa visitare ed è per questo che mi è stato comandato da comando siriano di portarti in visita qui. In poche manovre entriamo nel portellone dal quale escono ed entrano continuamente piccole navi stellari del comando, atterriamo nel corridoio di atterraggio e salutiamo i taccare ed attaccare ci accingiamo ad andare verso gli ascensori, che portano ai livelli superiori della nave. Durante il percorso vedo molto personale di bordo siriano, che mi saluta vivamente, vi sono con loro anche dei pleiadiani nordici e stranamente degli umani. Gli ascensori, che portano ai livelli di diversi punti della nave sono velocissimi ma si percepisce una leggera accelerazione.